Siamo con Giampaolo De Rubeis, capolista della lista civica cattolici e democratici per l'Aquila. Quali sono le caratteristiche di questo schieramento che sostiene il sindaco uscente Massimo Cialente? Guardi, noi abbiamo costituito questa lista perché riteniamo che l'Aquila abbia bisogno di gente che è stata un po' al di fuori della politica e che rappresenti quel moderatismo che in fondo è insito un po' nel DNA di noi aquilani. Abbiamo tentato di così coinvolgere e devo dire che la risposta è stata molto positiva perché tutti coloro che oggi sono nella lista dei cattolici e democratici con entusiasmo hanno risposto al nostro appello. Ecco, noi ci proponiamo come lista che racchiuda delle professionalità importanti della nostra città e che possa essere utile per l'eventuale, augurandocelo, governo della città. Le caratteristiche che lei ha citato in parte rientrano anche in alcune delle liste o comunque delle persone che si sono cambiate con la formazione politica di Giorgio De Matteis, la città aperta. Da parte sua, da parte anche delle persone che la sostengono, che lei rappresenta, c'è mai stata la tentazione di aderire a questo progetto? No, guardi, le dico subito. Noi, almeno io, ma anche altri, abbiamo mantenuto quello che è lo spirito originario per cui siamo in presenza di questa campagna elettorale. Le dirò di più che questa lista vuole essere anche, non il contraltare, ma volevamo che la città comprendesse che quei cattolici demoderati che sono presenti nella nostra città non erano a pannaggio solo del centrodestra e quindi coerenti con quello che noi abbiamo fatto in questi anni, coerente io personalmente con quello che è stata la mia presenza dal 2007 in poi e soprattutto negli ultimi due anni di Consiglio Comunale in cui sono rimasto nella maggioranza, in quella stessa maggioranza che io avevo poi, a cui avevo aderito nel momento in cui dopo le primarie con la lista civica impegno per l'Aquila appoggiamo sinceramente Massimo Cialente. Lo abbiamo fatto, lo abbiamo seguitato a fare quando io sono rientrato in Consiglio Comunale e oggi noi come moderati guardiamo con lo stesso spirito costruttivo con il quale abbiamo lavorato in questi anni. Lei appunto, l'ho ricordato, nel 2007 ha partecipato alle primarie con il Laboratorio per la Democrazia e poi si è sfociato nella lista impegno per l'Aquila. Quali erano le divergenze di allora con Cialente che sono state evidentemente appianate e ha avuto la tentazione di fare le primarie anche quest'anno? No, io quest'anno non ho inteso fare le primarie, non solo, ma dirò di più che la mia decisione di ripresentarmi e quindi di essere nuovamente in lizza per il Consiglio Comunale è nata dalle forti insistenze che io ho avuto da Gian Paolo Arduini e dallo stesso Sindaco. Debo dire che la prima mia decisione subito dopo la fine del Consiglio Comunale era quello di non ricandidarmi ma di essere presente aiutando l'amministrazione nascente con quella che è la mia modesta esperienza e le mie capacità di messe a disposizione della città. La stessa cosa che io feci nel 2007 perché ritenevo che ci dovesse essere comunque la presenza oltre al Sindaco Cialente e all'allora candidato del centrodestra Maurizio Leopardi ci dovesse essere qualche altra voce. Lì ci furono degli errori gravissimi fatti dall'allora responsabile della Margherita che era Antonio Verini, il quale... che cosa successe? Vi ricordate tutti? Si presentarono altri 3-4 candidati che nascevano come appartenenti alla Margherita sconci al bano eccetera sconci al bano ci fu pezzo pane cioè venne fuori una situazione che indubbiamente facilitò la vittoria di Massimo Cialente con questo nulla togliendo a Massimo Cialente le sue capacità non c'erano divergenze io l'unica cosa che dicevo che ho detto durante questi anni e che seguiterò a dire che bisognerà avere il coraggio di formare una squadra forte che non sia solo la squadra che gestirà o sarà la parte attiva dell'amministrazione ma gruppi di lavoro che aiutino l'amministrazione nel risolvere i gravosi problemi che noi dobbiamo affrontare da questo momento in poi. Lei ha parlato dell'UDC in questi primi periodi di campagna elettorale lo stesso Cialente ha detto l'UDC Aquilana è con noi dall'altra parte il segretario Morena Pasqualone da noi intervistata ha detto l'UDC sta con De Matteis c'è stata una presentazione chi non c'era lì non fa parte dell'UDC la verità qual è? Allora guardi la verità io la voglio dire tutta perché effettivamente ci sono stati degli equivoci che però credo che ieri quando noi abbiamo presentato la nostra lista ufficialmente Gian Paolo Arduini abbia saputo ben rappresentare questi equivoci quali sono? c'erano dei tentativi ci sono stati dei tentativi in cui siamo stati avvicinati io stesso sono stato avvicinato da esponenti dell'UDC perché ci fosse la possibilità di essere presenti in questa tornata elettorale io devo dire ho avuto due colloqui addirittura con il segretario nazionale dell'UDC Lorenzo Cesa in cui fui chiarissimo quando noi pensavamo di poter costituire una lista e io entrare nell'ambito lo schieramento dell'UDC per i miei trascorsi anche per la mia situazione pregressa dal punto di vista politico io sono nato nel 1990 come appartenente alla democrazia cristiana e fui eletto al Consiglio Comunale diventando anche il capogruppo in quel momento della democrazia cristiana che contava ben 22 consiglieri in questi colloqui io sono stato di una chiarezza assoluta e dissi io sono disponibili a essere presente e quindi a rafforzare la presenza dell'UDC all'Aquila ad una condizione semplicissima che nella prossima tornata elettorale l'UDC si schieri nel centro-sinistra la stessa condizione di Arduini esattamente questo non è avvenuto e noi così come abbiamo avuto poi i contatti sia con il segretario provinciale con l'onorevole De Laurentiis con l'onorevole Dionisi che era il commissario è vero che De Laurentiis non voleva De Matteis? esattamente De Laurentiis debbo dire che appoggiava questa mia o nostra richiesta di fare una lista forte dell'UDC che appoggiasse il centro-sinistra così come è avvenuto nelle altre realtà guardiamo a Vezzano per esempio così come in altre realtà anche al di fuori dell'Abruzzo allora questa situazione io la rispetto come rispetto tutti coloro che hanno fatto delle scelte la posso non condividere ma certamente io mi auguro che ci possa essere non oggi nel futuro eventualmente un ripensamento perché secondo me al di là del fatto che l'UDC non è riuscita fino a oggi a costituire questo famoso terzo polo viste le divaricazioni che sussistono è ovvio che io mi auguro un ripensamento nel futuro non tanto nella prossima guida amministrativa della città e quindi nelle componenti che faranno parte di questa amministrazione e l'appoggio a questa amministrazione ma nel futuro nelle prossime anche elezioni regionali e nazionali una risposta secca la sua posizione di capolista preconfigura un impegno da assessore in futuro? ma guardi io non ho fatto alcuna richiesta io anzi devo dire che sono onorato che mi è stato quasi non dico imposto ma hanno voluto che io capeggiassi questa lista il mio impegno è per la città il mio impegno vuole essere un impegno forte così come io mi sono impegnato negli anni in quel poco o quel tanto che qualcuno mi riconosce e mi auguro di poter essere utile qualunque sia il mio ruolo anche semplicemente come ho detto di consigliere comunale come ho fatto in questi anni ultima domanda lei è uno di quelli che credono in una possibile vittoria di Cialente al primo turno guardi io me lo auguro questo schieramento dei Mattes Proversi non è in grado di impensierire Cialente secondo lei? secondo me io rispetto come ho detto prima rispetto tutti i candidati e coloro che sono scesi in campo questo significa da un lato che grande vivacità politica in questa città io però faccio due considerazioni che spero facciano riflettere anche i nostri concittadini uno non ci si inventa sindaco dalla sera alla mattina io credo che le conoscenze amministrative della macchina comunale i rapporti che si debbano intessere giorno per giorno per mandare avanti quello che è la diciamo non è solo la ricostruzione delle nostre case ma la ripresa economica e sociale di questa città presuppone ormai una conoscenza di tutto ciò che è avvenuto in questi tre anni io credo che e spero che Cialente vinca ma non per me stesso assolutamente vinca perché significa continuità con quello che è avvenuto continuità anche riconoscendo gli errori che sono stati fatti in questi anni e io stesso ho più volte detto al sindaco che c'erano alcune cose che andavano modulate e direi anche prospettate in maniera differente per cui mi auguro però che Cialente vinca perché ci vuole la continuità e dobbiamo avere un'altra cosa importante noi dobbiamo sapere approfittare di questo anno di governo dei tecnici perché non perché io sia contro la politica ma perché il governo Monti attraverso lo stesso Premier e i suoi ministri hanno dimostrato e hanno riposto l'attenzione nazionale sulla nostra città ecco io credo che dovremmo saper come dire avere la capacità di sfruttare questo momento velocizzando e cambiando passo immediatamente per ricostituire due cose innanzitutto le persone noi sappiamo che la gente è disgregata e vive come in un limbo vive come se fosse sospesa in qualcosa che non riesce più ad avere come dire ad far assaporare la propria vita e la seconda cosa noi dobbiamo rimettere in moto tutto ciò che è il settore economico soprattutto di attività produttive che ridiano lavoro immediatamente alle tante strutture che in questo momento sono ferme per un motivo semplicissimo che noi dobbiamo far sì che i nostri giovani rimangano all'Aquila vivano e per l'Aquila e diano un contributo forte all'Aquila noi dobbiamo fare questo immediatamente credo che questo con il governo Monti che ci ha dato tanta disponibilità e se dobbiamo essere capaci di saperla sfruttare dobbiamo fare in modo che dal 9 maggio si rimetta in moto tutta la macchina e questo può farlo salento io credo di sì io credo di sì perché ripeto ormai si possono fare tanti appunti a Cialente però credo che uno non sia corretto e non sia umanamente vero quando si dice che Cialente ha commesso sì errori ricordiamoci tutti che dal 7 aprile Massimo Cialente è stato come me e come tanti altri ma lui con le responsabilità gravose che ha avuto e che seguita ad avere è stato presente giorno e notte in questa città ricordiamoci anche e questo lo dico lo faccio come appello ai miei concittadini io credo che qualunque sindaco anche il migliore in Italia si sarebbe trovato nelle difficoltà enormi per la tragedia che ci ha colpito il 6 aprile del 2009 certamente forse qualche cosa in più si sarebbe potuto fare però vorrei che tutti capissero e che seguitassero a capire che viviamo un dramma che durerà decine di anni e questo deve portare a far sì che l'Aquila attraverso le sue maggiori componenti abbia una forza immediatamente dopo il 6 maggio per ricominciare a lavorare con maggior lena maggiore forza e maggiore determinazione grazie grazie